C'è un sogno tutto toscano, è il sogno di un treno europeo della memoria, un treno che parta da Firenze e cui lungo il percorso si aggiungano giovani da tutta Europa insieme per imparare dalla storia e creare una rete di solidarietà contro ogni razzismo. Come quel treno che ormai da 18 anni porta i giovani toscani nei luoghi dell'olocausto in Polonia con cui la regione toscana celebra la giornata del ricordo delle vittime dello sterminio nazista, il treno della memoria. E nell'auditorium dell'Università Iazellonica di Cracovia in uno degli eventi organizzati durante il viaggio, mille studenti italiani e polacchi hanno ascoltato le parole del vicepresidente della Commissione Europea, Franz Timmermans, delle sorelle Andra e Tatiana Bucci e Lidia Maximovic, sopravvissute all'orrore dei campi di concentramento e del presidente della Toscana, Enrico Rossi. Perché parlare giovani è importante, ha dichiarato il vicepresidente della Commissione Europea, perché quello che è stato può tornare. La guerra è finita, ma le discriminazioni no. Abbiamo sentito le voci, le testimonianze portate dai sopravvissuti nei campi di sterminio, da queste tre straordinarie signore e abbiamo capito, credo, come da quell'orrore, dall'orrore della guerra, dei campi di sterminio è nata una cultura, un modo di pensare che ha spinto verso la solidarietà, che ha spinto verso l'eguaglianza fra gli uomini. Da quell'orrore della guerra, osservato Rossi e dei campi di sterminio è nata la costruzione dell'Europa, ma adesso viviamo una fase di rallentamento dove riemergono pulsioni nazionalistiche che si portano dietro il razzismo, l'esclusione di chi è diverso. Però stamani, di fronte a questo migliaio di ragazzi italiani, polacchi, penso che l'Europa ha un lascito, ha il lascito di una generazione di giovani ormai scolarizzata, che si conosce, che si sente a tutti gli effetti europei e che anche se ha opinioni diverse, come pure stamani emergeva, non potrà rinunciare a questa sua nuova cittadinanza in futuro. Questi giovani si faranno avanti, si stanno formando e credo che nelle loro mani si consegnerà il destino dell'Europa e sarà, sono convinto, un destino felice. Dal palco i sopravvissuti rispondono alle tantissime domande poste dai giovani studenti, ma il monito è questo. Ragazzi, usate la testa, perché è nelle vostre mani il futuro di questo mondo, non permettete che quello che è avvenuto si possa ripetere, dipende da voi. Gli oltre 550 ragazzi toscani arrivati a Cracovia hanno il compito di portare a casa la testimonianza di questo viaggio iniziato in treno attraverso l'Europa, dove hanno incontrato gli esperti e rappresentanti delle comunità ebraiche e delle associazioni partecipanti al treno per ripercorrere le tappe dell'antisemitismo e della Shoah e conoscere le vicende di persecuzione che colpirono Rom, Sinti, omosessuali, oppositori politici, internati militari, ma anche il tema dei neofascismi ai giorni nostri. Questi viaggi, questa presa di coscienza, di conoscenza, scienza e coscienza, sapere e provare il lato emotivo che si prova a girare ad Auschwitz o nei campi di sterminio, se uno si identifica ovviamente, è un vaccino. Poi ripeto, a volte i vaccini non sono più buoni perché poi piano piano la specie umana assorbe e ripropone altre malattie come gli antibiotici. Però se la storia è fatta ricorsi e ricorsi, deve impedire che i ricorsi ci siano. Primo lei avete visto sul cartello scritto è successo, può suggerire ancora. Se non si fa nulla è sicuro. I numeri dell'olocausto sono impressionanti. Gli ebrei uccisi furono 6 milioni. Soltanto nei campi di Birkenau e Auschwitz dal 1940 al 1945 morirono un milione e mezzo di persone. Visitare i luoghi dell'esterminio nazista ha un impatto violento. È vero, quando si toccano questi luoghi si torna sicuramente cresciuti e quando si vedono queste cose poi non si scordano più. Se una cosa non la vedi con i tuoi occhi non la puoi capire fino a fondo. Per tutti questi anni abbiamo studiato la Shoah e l'atrocità che ha colpito gli ebrei. Però non avevamo capito davvero cosa volesse dire il campo di concentramento Auschwitz 1, Auschwitz Birkenau. Con gli studenti c'è chi ha vissuto l'orrore sulla propria pelle come le sorelle Andra e Tatiana Bucci scampate a Birkenau a soli 4 e 6 anni. Andra e Tatiana da anni accompagnano i ragazzi delle scuole e instancabili hanno risposto ancora una volta alle domande degli studenti rievocando le fasi della deportazione e dello sterminio. La motivazione e la forza che mi dà di continuare anche quando sono stanca e proprio per non deludere i ragazzi che hanno comunque fatto un viaggio faticoso anche se dovesse fare bel tempo e caldo resta comunque un viaggio psicologicamente faticoso e allora anch'io faccio lo sforzo di continuare a parlare con loro. Il campo di concentramento di Birkenau ha una distesa immensa, silenzio e baracche al di là del filo spinato. Al termine della visita studenti, insegnanti e istituzioni hanno raggiunto in corteo il monumento delle vittime e ogni ragazzo ha pronunciato al microfono il nome di una persona uccisa in quell'inferno un momento di condivisione della memoria e presa di coscienza che l'orrore dell'olocausto non appartiene solo al passato. Quest'anno abbiamo portato con noi le parole di Primo Levi al quale appunto nel centenario della nascita è dedicato il treno e anche quelle di Amosotz che ci invitano appunto a conoscere ci invitano a essere, a prendere parte, a diventare partigiani della memoria non utilizzare la memoria semplicemente come commemorazione ma a utilizzarla perché ci aiuti a fare quelle scelte nel presente perché non siamo, come diceva ieri il Presidente Rossi, ignavi e per capire che la scelta di ciascuno di noi può fare la differenza. Poi Auschwitz I, il campo aperto dai nazisti nel 1940 requisendo una ex caserma polacca ci sono sgomento e errore ma anche tanta voglia di raccontare e di reagire negli occhi degli studenti che hanno visitato il museo che testimonia l'orrore vissuto da chi fu deportato e c'è chi qui rivede i racconti ascoltati a casa. La mia famiglia è una storia particolare, abbiamo avuto tante persone deportate nei campi di concentramento, abbiamo avuto anche purtroppo morti ma anche alcuni sopravvissuti. Mi racconta dalla loro esperienza ed è appunto un'esperienza molto dolorosa una cosa che non è facile ascoltare ma non è anche facile tenere dentro quindi bisogna per forza trasmetterlo agli altri e fare da testimoni. Eppure gli episodi di antisemitismo e di intolleranza ancora resistono nonostante la terribile testimonianza di Auschwitz. Il razzismo non è mai finito purtroppo, è continuato dopo tutto questo e c'è ancora oggi e lo vivo sinceramente anche sulla mia pelle tutti i giorni. Quando le persone mi vedono non mi dicono tu sei una sinta quando io sono a dirlo dopo cambio persona, non sono più la persona che sono ma divento la sinta solo perché sono quello. Il razzismo si è ancora presente e ci sono vari tipi di razzismo ci sono i razzismi, le persone razziste che cercano sempre una scusa dicendo sono razzista ma sono razzista perché? Prima di dire di essere razzisti era quasi una vergogna. Adesso viene detto molto più esplicitamente grazie anche al web, alla tecnologia che diffonde di più e amplifica questo male. Un male contro il quale i ragazzi sono stati messi in guardia dalle testimonianze che dopo la visita al campo hanno ascoltato dalla voce dei sopravvissuti. Storie che sono demoniti per il presente vissuto o anche da molti ragazzi saliti sul treno della memoria. Andando in giro con i miei amici si sentono spesso questi ragazzini che dicono cinesi qua, cinesi in là e ripetono tutte queste leggende metropolitane questi pregiudizi e spesso mi chiedono se io intervengo se dobbiamo intervenire. Infatti la mia mamma mi dice sempre di intervenire e di non subire queste violenze perché noi la lingua la conosciamo, sicché possiamo difendere. Infatti ogni volta che intervengo i ragazzi, questi ignoranti rimangono all'inizio impietrificati perché non si aspettano questi interventi nostri. Dunque il mio invito è di invitare ai miei paesani di intervenire, di lottare contro il razzismo, tutte le forme di razzismo. Ci sono ancora molti stereotipi e si possono trovare su omosessuali, sull'immigrazione che è un tema molto attuale e su per esempio ragazzi dove noi abbiamo tanti ragazzi dei Balcani, albanesi, rumeni e ci sono ancora molti stereotipi su questi ragazzi. Durante il viaggio c'è chi ha anche lanciato una campagna hashtag Vivi la Memoria. Abbiamo lanciato questa campagna quindi con questo hashtag Vivi la Memoria proprio per sensibilizzare i ragazzi e chiedere ai ragazzi di poter postare delle foto, dei video, sui social in modo che anche i ragazzi che sono rimasti a casa perché solamente 550 ragazzi delle decine di migliaia di studenti toscani hanno potuto prendere parte fisicamente al treno della memoria noi abbiamo chiesto ai ragazzi che hanno avuto questa possibilità di poter condividere la loro esperienza con gli altri ragazzi in modo che così tutti potessero vivere in qualche modo ciò che abbiamo vissuto noi in questi giorni. Dopo quattro giorni intensi radunati davanti alla stazione di Oswiecim per ritornare a Firenze gli studenti riflettono su quanto hanno vissuto con le parole di Ugo Caffatz che ha chiesto poi ai ragazzi un abbraccio liberatorio e di fratellanza. E poi il treno è ripartito verso Firenze. Quando il treno della memoria farà il ritorno gli studenti avranno un messaggio molto chiaro da portare i loro compagni di scuola perché hanno preso coscienza che ciò che è avvenuto può accadere di nuovo. Devono assolutamente venire qua e visitare questo posto e visitare l'orrore umano veramente di quello che è riuscita a fare la mente dell'uomo. Quando torneremo parlerò a loro di questa esperienza come un'esperienza che sinceramente secondo me tutti dovrebbero fare una volta nella loro vita. Anche le persone che ancora sono un po' scettiche su questo argomento e invito tutti a venire qua.